L'articolo di legge numero 62, regolamenta il settore agroalimentare, facendo riferimento alla distinzione tra merci deperibili e non deperibili. Per ciascuna tipologia, è previsto apposito termine di pagamento, che è di 30 giorni per la merce deperibile, e 60 giorni per quella non deperibile. L'attivazione della gestione agroalimentare si effettua dai parametri di magazzino. Successivamente all'attivazione, entra nelle anagrafiche dei clienti e dei fornitori, nella sezione delle condizioni commerciali. Utilizza il pulsante predisposto, al fine di inserire i codici di pagamento preventivamente codificati, associando il pagamento in base alla tipologia dell'articolo. La normativa prevede il pagamento a 60 giorni per gli articoli non deperibili. Mentre il pagamento per gli articoli deperibili, è a 30 giorni. Effettuata tale impostazione, occorre quindi definire correttamente l'anagrafiche dei tuoi articoli di magazzino, per i quali dovrai associare la tipologia dell'articolo. Utilizza il pulsante predisposto per accedere alla finestra, e indica se l'articolo che hai richiamato deve essere considerato come un articolo non deperibile, o deperibile. Lasciando vuoto tale campo, si intende che l'articolo non rientra nella gestione agroalimentare. Definite queste impostazioni, sei pronto per effettuare l'emissione dei documenti. Quando compili un documento, se si tratta di documento di tipo ordine, puoi immettere indistintamente articoli deperibili, non deperibili, e normali. Quando immetti una bolla, o una fattura, se nell'anagrafica dell'intestatario sono presenti i pagamenti per gli articoli agroalimentari, inserendo un articolo che rientra nella gestione agroalimentare, viene controllata la relativa categoria. In inserimento degli articoli nel documento, viene controllato che la categoria articolo sia omogenea con gli altri articoli agroalimentari precedentemente immessi. Se si inseriscono articoli in cui non hai definito la categoria agroalimentare, non viene data nessuna segnalazione. Quando viene inserito un articolo agroalimentare, nel caso in cui il pagamento del documento sia diverso da quanto richiesto per il settore agroalimentare, visualizzi il messaggio che ti permette di impostare il pagamento del documento, in base al campo agroalimentare definito nell'articolo. Il controllo viene eseguito anche quando utilizzi un articolo campionario, in fase di esplosione dell'articolo campionario. Sia in fase di importadocumento. Nei documenti che gestiscono lo stato di riga, quali gli ordini, sia in fase di trasformazione delle bolle in fattura viene attivato il nuovo tasto funzione, e va di articolo 62. Presente nell'attestata del documento. Il pulsante è utilizzabile nei campi successivi alla sigla documento, e prima di inserire l'intestatario. La funzione permette. L'evasione di tutti gli articoli presenti nel documento, in base alla categoria agroalimentare che selezioni. L'impostazione automatica del pagamento del documento, in base a quanto definito per l'intestatario, relativamente alla categoria articoli selezionata. In fase di trasformazione delle BCEBF, viene gestito lo stato di riga, e, evadibile. Oppure S, sospesa. Lo stato di riga si può modificare anche tramite la funzione di ricerca e sostituzione. Utilizzando tale funzione, il codice pagamento della bolla non viene modificato. Per quanto relativo alle righe descrittive di tipo punto, e di tipo virgola, queste sono gestite in base al parametro di magazzino o annotazioni collegate alla riga. In trasformazione in documento di ultimo livello, fattura, alla conferma del corpo documento, viene controllato che gli articoli presenti siano omogenei, tutti deperibili, o tutti non deperibili. Se presenti entrambe le tipologie, viene dato opportuno messaggio, con possibilità di proseguire, o restare nel corpo per apportare le correzioni del caso. Quando insieme agli articoli deperibili, esistono anche articoli che non rientrano nella gestione agroalimentare, oppure quando, insieme agli articoli non deperibili esistono anche articoli che non rientrano nella gestione agroalimentare, il controllo non è gestito. In emissione di farita documenti, solo quando si trasformano i documenti in fattura, tramite il pulsante predisposto, emissione, è possibile scegliere la modalità di trasformazione dei documenti. Per trasformare tutti gli articoli, deperibili, non deperibili e non agroalimentari. In base al parametro impostato, si sceglierà quindi se impostare il pagamento in base alla tipologia articolo, o meno. Le righe articoli non elaborate, resteranno nei documenti origine.